Perché questa foto? In realtà un po' di passione per la fotografia ce l'ho, ma è un pretesto per raccontare dell'evento che sta coinvolgendo la città di Rovigo in questi giorni. Infatti dal 28 di settembre al 26 gennaio presso Palazzo Roverella c'è una mostra monografica dedicata ad uno dei più grandi fotografi di tutti i tempi, infatti Henri Cartier-Bresson e l'Italia. Un'esposizione di circa 200 opere tra scatti, foto, documenti tratti da pagine di giornale, lettere, raccolti da Henri Cartier-Bresson durante i suoi viaggi in Italia. Una magnifica esposizione di colui che è stato definito l'occhio del nostro secolo. Voi conoscevate questo evento di Rovigo? Io vi invito a venirlo a visitare e cogliete l'occasione per fare una passeggiata anche nel nostro territorio. Per il momento auguro a tutti una buona foto!